Io confermo che mi candido nel Collegio di Roma e poi dopo di che le liste saranno fatte entro domani, saranno note. Noi siamo partiti dal programma, ci sembrava più corretto fare e spiegarlo non dandolo ai giornali e basta, ma spiegando che è il cuore della nostra offerta politica. Poi le liste ovviamente le vedrete, farete tutti i commenti, per quanto mi riguarda io sono molto soddisfatto, posso dire questo.